Sono Sandro Canalilovic, nato a Roma, non ho nessuna cittadinanza italiana. Io ho perso la cittadinanza italiana per un foglio dell'ex Jugoslavia, il comune mi ha chiesto un documento dell'ex Jugoslavia, di cui la Jugoslavia faceva la guerra e non potevo fare questo documento qua. Non mi rinnovavano il passaporto, non lo sapevo neanche io perché c'era un'ambasciata a Milano e ogni volta ci andavo. Mi rimandavano, viene tra sei mesi, viene tra otto mesi, mi dicevano sai come il conflitto, queste cose qua. Nel 2006 mia madre è andata in Bosnia a chiedere perché non mi rinnovano il passaporto. E di chiesto hanno fatto il fogliettino di cui non sono iscritto. Manco la Bosnia mi riconosce più e sono diventato apolide, non ancora apolide, sono invisibile perché non ho ancora lo stato di riconoscimento della polidea. Io avevo paura senza documenti di andare anche in giro, non potevo lavorare, non potevo fare niente, non avevo diritto alla sanità, a niente non avevo diritto. ero invisibile nell'invisibile. Non auguro a nessuno questa cosa, di non avere uno stato che ti riconosca, che tu sai che io ho uno stato dietro alle mie spalle, niente. Noi siamo, io sono un rom, già che sono rom mi vedono male tutti quanti, io devo nascondere che sono rom. Più essendo un apolide, zero, io valgo, si può dire io sono zero, valgo zero. Il mio stato di apolidea cade non solo su di me ma anche sui miei figli. La fisioterapia, una banale fisioterapia per mia figlia, una carrozzina, niente, non ho ricevuto niente. Anche per mandare i bambini a scuola è stato un problema con Cristina. La costituzione italiana dice che chi è nato qua in Italia ha diritto ai 18 anni di fare la cittadinanza italiana. Siccome Cristina, le parole sono, è disabile, non può avere la cittadinanza italiana perché non può esprimere la volontà di dire sì io voglio diventare cittadinanza italiana. I bambini sono nati in Italia, cresciuti in Italia, fatto le scuole, fatto i vaccini, fatto tutto. Io sto combattendo per Cristina e per altri bambini mia che non ricade l'apolidea essere invisibili su di loro. Io sto combattendo per la cittadinanza italiana. Io sto combattendo per la cittadinanza italiana, volta inscrizione, sono materiale! Grazie a tutti